Non ha voluto far mancare il suo videomessaggio di auguri Cristiano Costanzo, papà del piccolo Gabriel Little Hero. Nel suo messaggio di auguri ringraziamenti a tutti i cittadini di Agropoli che continuano a sostenere l'associazione per contribuire alla riuscita dei progetti di speranza. Io vi auguro di essere contagiati, ma contagiati dello stesso amore del quale siamo stati contagiati noi, quello che ti fa guardare all'altro, al prossimo, quello che ti dà la forza di aiutare e quello che ha salvato il nostro figlio, quell'amore incondizionato verso gli altri. Un abbraccio, buone feste, un po' particolari per tutti quanti, ma traiamone forza da tutto questo. Auguri di Buon Natale!